Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono stato in piscina ed è per questo che ho i capelli completamente schiacciati Sembro Don Matteo E niente, è stata una bella giornata e ora vi lascio al video che ho girato Ciao a tutti 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 Ciao a tutti